È un progetto che coinvolge i ragazzi in attività che non sempre riescono a fare durante tutto l'anno e a noi professori piace il fatto di portarli qua e trovare degli istruttori che si occupano dei ragazzi e ci scaricano dalla responsabilità di stare sempre dietro come tutti i giorni scolastici. Questa visibilità lo facciamo per coinvolgere i ragazzi in un'esperienza diversa dall'ambiente scolastico, confrontarsi con altri ragazzi di altre scuole e con altri istruttori molto qualificati che gli permettono di sviluppare le loro capacità, specialmente nella pallavolo. Come scuola siamo molto contenti dell'organizzazione e quando si va in vacanza o in una gita scolastica il professore è un po' meno professore e allora con i ragazzi si stanno dei rapporti che durante tutto l'anno non si riescono a ricreare e questo qua poi aiuta anche il professore per tutti gli altri anni scolastici perché anche i ragazzi ti vedono sotto un'altra forma, anche più di rispetto da tutte e due le parti e i ragazzi crescono insomma. È un'esperienza da fare specialmente per i professori di ginnastica, di educazione fisica, di scienze motorie venire in un ambiente del genere dove lo sport è messo in primo piano è il massimo.